Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha convocato una conferenza stampa per fare il punto della situazione politica attuale, in relazione anche alla sentenza della Cassazione, relativa all'accoglimento dei ricorsi proposti dai legali di Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro, entrambi non presenti in Consiglio per via dell'abrogazione della surroga. L'ultimo dei tasselli che è stato necessario per demolire totalmente la coalizione di centrodestra. Negli anni abbiamo fatto sì non solo di destrutturare i partiti, cioè i primi dei non eletti che addirittura fanno causa alle persone che sono in Consiglio regionale, in una Royal Rainbow giudiziaria, ma poi c'è stata la questione delle indagini su otto persone della Giunta, dopo la nomina di Nicoro Magnuolo al Consorzio Industriale di Boiano e Campobasso. C'è la questione della lite con i grandi competitor del settore sanitario privato e anche quella con i competitor del settore del trasporto pubblico locale. Quindi significa che siamo riusciti realmente a, permettetemi, distruggere un centrodestra che oggi è a pezzi e si presenta alle elezioni totalmente dilaniato. Vedremo quello che succede nelle prossime ore, bisogna vedere la composizione del Consiglio regionale dopo questa pronuncia sulla surroga e naturalmente ci regoleremo di conseguenza. Domani c'è il Consiglio regionale e tocca vedere quale sarà la composizione del Consiglio regionale. Un aspetto importante, dobbiamo far capire ai cittadini molisani che non ci saranno spese di milioni e milioni di euro immediatamente a seguire dopo questa sentenza, perché la sentenza stabilisce un principio, naturalmente per avere accesso a quel diritto dovranno, cioè chi può quantificare l'eventuale danno può essere solo un giudice, per cui oggi Micone non solo non dovrà tirare fuori una lira ma se lo dovesse fare credo che sarebbe lui responsabile di un eventuale danno, perché è solo un giudice che può quantificare l'eventuale danno. La surroga condiziona sia in una fase successiva alle elezioni, quindi assegnando un potere abnorme al Presidente della Giunta regionale, ma andava a condizionare anche in una fase pre-elettorale, perché andava a condizionare la composizione delle liste. È chiaro che tanti candidati lo hanno scelto di candidarsi proprio in virtù di questo meccanismo, sapendo che poi il capo bastone della lista di turno aveva un'altissima probabilità di essere nominato assessore. Quindi è un meccanismo che distorceva la democrazia, secondo noi, sia in una fase precedente alle elezioni, sia in una fase successiva all'interno della maggioranza di governo.